Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale, sono Eli e nei miei video parlo di casi true crime, storie di cronaca nera e più in generale tutto quello che di inquietanti riesco a trovare sul web. Se queste tipologie di video vi possono interessare assicuratevi di iscrivervi al canale, altrimenti nessun rancore e iniziamo con il caso di oggi. Per il caso di oggi ci troviamo in Indiana, più precisamente nella contea di Kosciusko. Nella zona più a nord di questa contea c'è anche un piccolo comune di circa 1000 abitanti chiamato Nord Webster. Questo comune si trova proprio al centro di un'area nell'Indiana conosciuta anche come regione dei laghi, ovviamente per la quantità di laghi medio piccoli che si trovano nella zona. E infatti Nord Webster si affaccia proprio su uno dei laghi più grandi di quest'area che prende il nome proprio dalla città. La nostra storia in realtà inizia negli anni 70, quindi contate che Nord Webster era, comunque ce lo è anche adesso, una città piccola, però al tempo era ancora più piccola, contava sui 500 abitanti, era più o meno la metà di quello che è adesso. Quindi potete immaginare la tranquillità sia adesso che a maggior ragione al tempo di questa zona, si conoscevano praticamente tutti, i bambini, i figli delle varie famiglie crescevano insieme, giocando insieme. Anzi erano un po' tutti abituati, fin da piccoli anche i bambini, ad andare a giocare con il vicino o in varie zone di questo piccolo comune, da soli senza la supervisione degli adulti. Tra queste famiglie nel 1975 c'erano anche i Mitchell. I genitori, Richard e Woma, si erano sposati da giovanissimi e avevano da subito iniziato ad allargare la famiglia. La prima genita la chiamarono Laurel e nacque il 24 maggio del 1958. E negli anni a venire la famiglia Mitchell si allargò ancora di più, prima con Sarah e poi con il figlio più piccolo, Bruce. I tre fratelli crebbero proprio a North Webster, quindi come vi dicevo prima, sicuramente in un contesto molto sereno, giocando con i vari bambini, i vari ragazzini della comunità, in totale assenza diciamo di supervisione dagli adulti. Crebbero in una maniera davvero serena, avevano una famiglia che li adorava, tanti amici, non avevano mai avuto problemi economici, non era mancato mai niente a nessuno di loro crescendo. E così arriviamo appunto al 1975, in quell'anno Laurel aveva 17 anni ed era all'ultimo anno del liceo. Era una ragazza che si dava decisamente da fare, infatti aveva trovato un lavoretto in un bar di North Webster, un bar che si trovava di fianco alla chiesa che frequentavano con la famiglia. Era un bar in una posizione abbastanza strategica perché era sì vicino alla chiesa e quindi ovviamente dopo tutte le cerimonie era un po' un punto di ritrovo per i fedeli, ma anche per tutte le altre persone, anche persone che non frequentavano la chiesa perché si affacciava sul lago, quel lago di cui vi parlavo prima, e si trovava in un punto attrezzato, quindi di conseguenza frequentato da moltissime persone che facevano una passeggiata o volevano passare del tempo all'aperto. Parlando della chiesa, i Mitchell erano anche una famiglia religiosa, infatti Laurel aveva anche iniziato a far parte del coro della chiesa. Con questo coro praticamente si esercitava una volta a settimana ed erano anche abbastanza conosciuti come coro della chiesa perché andavano tra virgolette in tournée nelle varie città vicine a cantare a spettacoli o altri eventi in altre chiese. Addirittura a un certo punto avevano inciso un album e ovviamente tutti i ricavati delle loro performance o delle vendite di questo album andavano alla chiesa. Questo per dirvi comunque che per quanto Nord Webster sicuramente fosse una comunità piccolina, questo per dirvi che comunque quella zona Laurel la conosceva benissimo, ovviamente non che Nord Webster fosse questa città enorme, conosceva un po' tutta Nord Webster chiaramente essendo nata lì, però quella zona in particolare era una zona che frequentava spessissimo. L'estate di Laurel di quell'anno iniziò assolutamente in modo tranquillo e sereno, tra compiti delle vacanze in casa, amici, appunto frequentazioni della chiesa e lavoro. Al bar sembrava tutto tranquillo e il 6 agosto inizia come una giornata fratante. La mattina lei e i suoi fratelli la passano a casa a fare i compiti delle vacanze. Nel pomeriggio invece Laurel aveva un turno al bar, esce di casa verso le 14, saluta i suoi genitori e si avvia. Arriva al lavoro puntuale come sempre, svolge il suo turno che termina verso le 22 di sera. Quella sera aveva in programma di vedersi con alcuni suoi amici in una sorta di parco divertimenti, piccolo Luna Park, che si trovava proprio vicino a dove lavorava, erano 800 metri di distanza. Mentre esce una sua collega, un'altra cameriera, le chiede se ha bisogno di un passaggio in macchina, tanto appunto ci avrebbe messo pochissime, cioè ci avrebbe messo poco a piedi, figuriamoci in macchina. Solo che Laurel rifiuta, dice che aveva voglia insomma di farsi una passeggiata, era una bella serata, aveva voglia di prendere un po' d'aria. Di conseguenza la collega la saluta e se ne va. Alcuni conoscenti vedranno Laurel più o meno a metà strada tra il bar e il Luna Park, la saluteranno da lontano, quindi erano sicuri che fosse lei perché aveva ricambiato il saluto e quella sarà l'ultima volta che verrà vista viva. I suoi amici ovviamente la stavano già aspettando al parco, passano un po' di minuti, Laurel non arriva, già cosa strana perché era una persona molto precisa, raramente era in ritardo. In ogni caso la aspetteranno per i 40 minuti successivi, dopodiché decisero di cambiare posto diciamo per passare del tempo insieme e questi amici non si preoccupano perché chiaramente al tempo non è che si utilizzavano i cellulari così. Quindi diciamo che se una persona doveva uscire con qualcuno e poi per qualche motivo cambiava idea, si sentiva male oppure non so decideva di fare qualcos'altro, non è che si mandava un messaggio, si avvisava guardate che non vengo perché le persone non avevano i cellulari. Quindi magari adesso ci fa sembrare strano che questi amici non si sono preoccupati, però c'è da tenere in considerazione che non era così raro che se qualcuno aveva un contrattempo o cambiava idea non avvisasse ovviamente le persone che erano lì ad aspettare. Quindi questo gruppo di amici decide di spostarsi un po' più in là, passano la loro serata senza preoccuparsi di quello che era accaduto a Laurel. Infatti in realtà passeranno un po' di ore prima che qualcuno si renderà conto che c'era qualcosa che non andava e se ne resero conto i genitori della ragazza che a mezzanotte, che era anche il coprifuoco che avevano dato a loro figlia, non la videro arrivare e si preoccuparono da mezzanotte 02 praticamente perché come vi dicevo Laurel era una ragazza molto precisa, soprattutto con orari, insomma scadenze, cose del genere, non aveva mai fatto una volta in ritardo al suo coprifuoco. Quindi iniziano a preoccuparsi e pensano di fare una cosa perché come vi dicevo lì i figli delle famiglie si conoscevano tutti, facevano tutti parte di questo gruppo di amici che usciva insieme, quindi pensano bene di andare dalla famiglia che abitava di fianco loro, che avevano un ragazzo più o meno dell'età di Laurel che solitamente usciva con lei, per chiedere se il ragazzo fosse arrivato e se sapesse come mai stava tardando loro figlia. Quando arrivano a casa dei vicini, il figlio dei vicini è già a casa e non solo vedono che è già a casa, ma quando gli chiedono che fine ha fatto Laurel, questo ragazzo li informa del fatto che non si era mai presentata all'appuntamento e che pensavano magari si fosse sentita male o avesse cambiato idea e fosse tornata a casa. A questo punto chiaramente scatta la preoccupazione non solo dei genitori di Laurel, ma anche un po' dei vicini, delle persone che li conoscevano. Nell'ora successiva contatteranno telefonicamente praticamente ogni persona che conoscevano a Webster, ogni persona che aveva un figlio o una figlia che solitamente usciva con Laurel. Nonostante gli sforzi però assolutamente nessuno aveva idea di dove fosse. Quindi dopo aver controllato e sentito ogni persona possibile, non rimane nient'altro se non chiamare la polizia. E fortunatamente la polizia prese subito seriamente questa scomparsa, non partirono con la classica cosa, a 17 anni sarà scappata di casa, non vi preoccupate prima o poi torna. No, partono subito all'azione e infatti le ricerche vengono organizzate praticamente da subito, cioè da appena viene denunciata la scomparsa di Laurel. A queste ricerche ovviamente partecipano non solo i familiari, i conoscenti di Laurel, ma anche tutte le persone che facevano parte di quella comunità. La cercheranno per tutta la notte e alcune persone anche, compreso ovviamente la famiglia, per le ore successive alle prime ore del mattino, ma non troveranno assolutamente niente. La zona che fu il fulcro di queste prime ricerche era proprio quella zona che separava il bar dove lavorava Laurel e quel parco divertimenti dove si sarebbe dovuto incontrare con i suoi amici. Alle dieci e mezza del mattino le ricerche erano ripartite ufficialmente con tutte le persone, non solo i familiari. E mentre un sacco di persone la stavano cercando, ad alcuni chilometri di distanza da North Webster, ma sempre sulle sponde di quel lago da cui prende il nome la città, un signore si trova sulla riva di questo lago insieme a suo figlio e erano lì perché stavano pescando. Tutto tranquillo, tutto bene, fino a quando questo signore vede qualcosa nell'acqua, qualcosa a galleggiare che non riesce bene a capire che cosa sia. Questa cosa che sta galleggiando però man mano con la corrente del lago arriva più vicino a loro e questo signore si rende conto che si tratta di una persona. Cerca di aiutarla, di tirarla fuori e va a paura che si trattasse di una persona che magari si era appena sentita male ed era caduta nel lago, ma si rende conto quasi immediatamente che qualsiasi cosa fosse accaduto a quella persona era morta da parecchio tempo. Questo signore fermerà una macchina di passaggio e le persone che appunto si trovano in questa macchina andranno a chiamare la polizia. A questo punto in realtà la notizia della scomparsa di Laurel ancora non era uscita da North Webster, quindi la nuova pattuglia della polizia che arrivò lì e anche le persone, il signore stesso che si trovava lì a pescare con il figlio, non sapevano nemmeno che dalla città vicina fosse scomparsa una ragazza. Quindi in realtà il collegamento del corpo trovato con Laurel non venne fatto immediatamente, fino a quando non si resero conto che la ragazza aveva al dito un anello, con sopra le iniziali del nome di Laurel e del cognome e il nome del liceo che frequentava. Quindi non appena insomma arrivò la notizia di una ragazza scomparsa a North Webster, compararono le iniziali e la scuola, insomma fecero due più due. All'inizio pensarono che si fosse trattato di un incidente, pensavano che magari la ragazza per qualche motivo di notte era caduta, era scivolata nel lago e fosse di conseguenza annegata. Questa prima ipotesi in realtà viene da subito respinta dalla famiglia di Laurel, perché a quanto pare questa ragazza sapeva nuotare benissimo, aveva preso lezioni di nuoto ogni anno da quando aveva quattro anni. Il che a prescindere da questo caso io non lo escluderei, perché nei laghi ci sono molto spesso delle correnti fortissime, che possono mettere molto in difficoltà anche i nuotatori più esperti, motivo per il quale se per caso qualcuno quest'estate dovesse passare giorno o due, quello che è, su un lago, fate il bagno solo nelle zone indicate come balneabili, perché c'è un macello di gente che è morto in questo modo. Io avevo fatto un caso, quello sulla maledizione di Glee, Naya Rivera sapeva nuotare perfettamente ed è morta affogata in un lago, quindi fate attenzione, è una cosa che mi terrorizza per qualche motivo, ogni volta che sento persone annegate nei laghi mi viene davvero male. In ogni caso, a prescindere dal fatto che fosse probabile o meno che questa ragazza fosse annegata nel lago, dimostrara ufficialmente che un annegamento accidentale non poteva essere stato. Questo per due motivi, in primo luogo trovarono dei segni sulla ragazza, che non potevano essere dei segni causati da una caduta, sembrava che la ragazza fosse stata coinvolta in qualche tipo di lotta, aveva dei tagli, delle contusioni, insomma sembrava che qualcuno l'avesse strattonata o picchiata in qualche modo. La seconda cosa fondamentale era che Laurel aveva subito degli abusi. Quindi per questi due motivi l'ipotesi morte accidentale venne scartata. Il fatto è che, vi ricordo, ci troviamo nel 1975 e probabilmente già, se accadesse oggi, chiaramente un corpo che è rimasto per molto tempo in acqua, come sapete l'acqua lava via, non qualsiasi, però la maggior parte delle possibili tracce, DNA o indizi. In più era il 1975, quindi non c'erano nemmeno lontanamente le tecnologie che abbiamo oggi. Quindi se già sarebbe comunque difficile, con le tecnologie di oggi, tirare fuori delle tracce del DNA da quella situazione, figuriamoci nel 1975. E infatti per questo motivo le indagini si bloccano quasi immediatamente. Anche se con grande lungimiranza presero tutte le prove che avevano a quel punto, quindi i vestiti, le scarpe, la biancheria intima, l'anello, insomma tutte le cose che aveva addosso quella sera Laurel e le conservarono nella speranza di poter rianalizzare quelle cose con delle tecnologie future. E così si tengono i funerali di Laurel. Tra l'altro ai funerali partecipò davvero tantissima gente, non parteciparono solo persone della comunità o comunque persone che la conoscevano, ma anche da un po' tutte le città vicine. Tanto che la chiesa era strapiena ed era piena di persone che aspettavano fuori, perché non ci stavano fisicamente. Le indagini da qua in poi procederanno a singhiozzi per tantissimi anni. La prima cosa particolare che accadde avvenne solo in realtà a mesi dal ritrovamento di Laurel. Una donna contattò la polizia in forma anonima da un telefono a cabina pubblica dicendo di sapere che cosa era accaduto a quella ragazza. Il fatto è che subito dopo aver detto questa cosa mette giù la chiamata o cade la linea. La polizia tentò in tutti i modi di cercare di capire chi avesse fatto questa chiamata, faranno anche degli appelli pubblici, diranno di garantire privacy, sicurezza e qualsiasi altro tipo di protezione a questa persona per cercare di invogliarla a ricontattare la polizia. Verrà fissata anche una ricompensa a 50.000 dollari, che sono tanti adesso, nel 75 erano ancora di più come potere di acquisto. Insomma, nonostante tutti gli sforzi per cercare di rassicurare questa persona e convincerla a parlare, quella persona non si farà mai più viva. E per quanto non è mai più stato ovviamente accertato, io un'idea me la sono fatta su questa chiamata anonima, ma ne parleremo più verso la fine del video per avere tutti gli elementi, insomma, per poterne parlare. La seconda cosa che avvenne fu una persona che si fece avanti. Questa volta una persona che diede la sua identità, non conosciamo il cognome, ma si chiamava Katrin. Katrin abitava, nel periodo in cui è avvenuto questo caso, proprio a pochissima distanza da quella strada che Laurel aveva percorso per andare dal bar al parco dei divertimenti. Questa donna racconta che proprio la sera del 6 agosto, verso le 22 e un quarto di notte, quindi in un orario perfettamente compatibile con il tragitto che stava facendo Laurel, dato che aveva concluso il suo turno alle 22, aveva sentito dei rumori strani. Aveva sentito una macchina che faceva molto rumore e aveva sentito la voce di un uomo, di un ragazzo, urlare prendila. Ora, non aveva sentito urla, richieste di aiuto, quindi non è che si era preoccupata particolarmente per questa cosa, però le era rimaste impressa. E chiedendo a delle altre persone che abitavano vicino a Katrin, altre due persone effettivamente avevano sentito quello di cui parlava la donna. Una persona aveva semplicemente sentito, non aveva visto niente, un'altra persona qualcosa l'aveva vista. Questa persona si trovava a casa sua, a farsi i cavoli suoi, e aveva sentito proprio come aveva raccontato Katrin, dei rumori, dei rumori di macchina e quella frase appunto prendila o qualcosa del genere. Nel tempo che ci aveva impiegato ad alzarsi per andare a vedere fuori, aveva sentito che il rumore della macchina si era interrotto, quindi presumibilmente la macchina si era fermata, e aveva sentito il rumore di un bagagliaio dell'auto aprirsi e chiudersi. Era uscito e non aveva sentito più altro, ma aveva fatto in tempo a vedere due macchine andarsene di lì. Non aveva visto targa, o non se la ricordava, o comunque tipologia di queste macchine, ma si ricordava chiaramente che una delle due era una macchina decappottabile rossa, mentre l'altra una macchina grigio scura. Cercano di indagare su queste due macchine per capire se una delle due, o tutte e due insomma, potessero essere collegate al caso, ma non riescono a trovare assolutamente niente. Per molti anni, tantissimi anni successivamente, le indagini continueranno a venire chiuse e riaperte, non uscirà mai fuori niente in questi anni, almeno di noto. L'unica cosa che subì un po' una progressione in questo caso fu il profilo psicologico che venne creato dai detective. Un profilo psicologico che, sinceramente, potrebbe essere appaiabile a un sacco di persone. Comunque, si immaginava che questa persona dovesse essere qualcuno che o viveva nell'area, o comunque che per qualche motivo la frequentasse spesso, che fosse magari per le vacanze, o una persona che andava lì a lavorare tutti i giorni, e poi probabilmente una persona con dei precedenti penali, o comunque con un passato di episodi violenti. E così passano gli anni, fino al 2007, quando la situazione del caso prese una piega un po' diversa, perché decisero di ricominciare da zero, cioè affidarono nuovi poliziotti, nuovi detective, nuovi specialisti al caso, in modo che analizzassero la situazione da zero. A mente fresca, persone che magari non si erano già fatti dei pregiudizi nel corso degli anni, su questo caso in particolare. Per un po' la famiglia di Lauren ebbe la speranza che magari con questa nuova rivisitazione delle persone che si occupavano del caso, potesse effettivamente venirne fuori qualcosa. Purtroppo non fu così. E, cosa che mi spezza il cuore quando capitano situazioni simili, nel 2012 sia la madre che il padre di Laurel morirono per cause naturali. E immaginarmi questi poveri genitori che sono morti senza avere la più palida idea di chi fosse responsabile di cosa fosse accaduto alla figlia. È una cosa davvero tristissima, secondo me. La morte dei genitori, però, se vogliamo, diede una nuova botta mediatica al caso di Laurel. La notizia della loro morte venne passata in diversi telegiornali, in diversi programmi televisivi che decisero di fare un nuovo servizio sul caso per cercare di aggiornare le persone, il pubblico, con tutte le cose nuove, gli aggiornamenti che erano spuntati fuori nel corso degli anni. E infatti, a pochi mesi dalla morte dei genitori di Laurel, si fa avanti una signora, una signora che si chiama Renée. Questa signora, che era una signora nel 2012, un tempo ovviamente era stata ragazza, come tutte le signore, ma viveva proprio vicino a Northwestern. E nel 1975 aveva più o meno l'età di Laurel, perché aveva 16 anni. Racconta alla polizia che al tempo, nel 1975, la stessa estate in cui era avvenuto l'omicidio di Laurel, usciva con un ragazzo di nome John Wayne. Questo John Wayne, le aveva parlato, insomma erano usciti un paio di volte, una serie in particolare decidono di andare a una festa. Al ritorno di questa festa, John la riaccompagna a casa, in auto, probabilmente per il fatto, confessa questa stessa Renée, che aveva bevuto un po', inizia ad aprirsi con lei, le racconta un po' di esperienze passate. E tra le cose che le racconta, le racconta che quella stessa estate, lui e un suo amico avevano aggredito e ucciso una ragazza. Non verrà fatto il nome di Laurel, in quella sera in particolare, però le aveva raccontato tutta una serie di dettagli che combaciavano con le evidenze che erano state ritrovate poi su Laurel, cioè che era stata picchiata, che era stata affogata evidentemente fisicamente, che era stata abusata. E al tempo Renée non aveva avuto il minimo dubbio che quello che le stesse raccontando John fosse la verità per questa estrema cura nei dettagli, nei particolari, che aveva nel raccontargli quello che era successo. E per questo motivo rimase talmente terrorizzata da questa informazione che negli anni successivi non dirà assolutamente niente, fino al 2012. Cosa che per carità possiamo parlarne quanto volete, discutibile, probabilmente sì, meno male che prima o tardi, insomma, ha parlato. Da quel momento in poi, poi lei ovviamente non aveva più visto né sentito questo John, si era tenuta più distante possibile da lui, insomma, le loro strade non si erano mai più rincrociate. La polizia chiede a Renée se si ricordava il nome di questo altro amico che aveva coinvolto John, cioè gli aveva detto io e un altro amico, e lei disse di ricordarsi. Non si ricordava perfettamente nome e cognome completi, si ricordava che il nome era Fred, e poi inizia a provare un po' a dire, iniziava con la B, sembrava Bounty, Bounty, e poi arriva a Bundy. E dice con abbastanza certezza che la seconda persona, l'amico di cui aveva parlato John, era Fred Bundy. Allo spuntare di questo nome, la polizia fa un'indagine. E viene fuori che in realtà quel Fred Bundy era già spuntato, in una situazione molto molto simile. Infatti, anni prima, nel 1982, un ragazzo di nome Bill era andato alla polizia per dire una cosa in realtà estremamente simile a quella raccontata da Renée. Aveva raccontato con suo conoscente, un certo Fred Bundy Jr., gli aveva raccontato di essere coinvolto nell'aggressione di una ragazza. Di nuovo non erano stati fatti nomi, non era andato particolarmente nei dettagli sul posto dove, però gli aveva raccontato esattamente quello che aveva raccontato John a Renée. Ovvero che era insieme a un suo amico, che avevano aggredito questa ragazza, l'avevano picchiata, avevano abusato di lei e poi l'avevano uccisa. E all'epoca, nell'82, quella segnalazione, quella denuncia che aveva fatto questo Bill, era finita un po' nel dimenticatoio. Da un lato perché non era stata correlata la situazione, cioè al caso di Laurel, ma dall'altro anche perché, chiaramente una persona che racconta, per sentito dire, non è una prova schiacciante per accusare qualcuno. Ora però c'erano due persone che avevano raccontato delle cose che potevano potenzialmente combaciare, cioè quel John Wayne che aveva detto che lui e un suo amico, Fred Bundy, avevano fatto quella cosa, e Fred Bundy che racconta che era successa la stessa cosa con un amico. Non fa il nome di John, però racconta una cosa molto molto simile. Ora, per un motivo che non sono riuscita a estrapolare dalle fonti online, le indagini nel confronto di queste due persone rimarranno in pausa per moltissimo tempo. Penso perché, di nuovo, con solo parole si può fare poco, non sono prove di colpevolezza di nessun tipo, chiaramente. Magari non c'erano abbastanza prove per poter solo anche iniziare legalmente un'indagine. Non lo so, non è ben chiaro come mai c'è questo gap di un bel po' di anni, da quando René si fa avanti e iniziano a fare 2 più 2, a quando prenderanno effettivamente dei provvedimenti nelle indagini, nei loro confronti. Dobbiamo infatti fare un salto fino al 2019, quando in quegli anni, in realtà ne avevamo già parlato in un altro caso che è stato risolto anche quello ad anni e anni di distanza, sono arrivate delle nuove tecnologie per lo studio del DNA, delle tracce di DNA, quindi in ambito proprio forense. E in particolare arriva questa nuova tecnologia che è stata fondamentale fondamentale per la risoluzione di un sacco di altri casi, che permette in parole proprio spicciole per niente scientifiche di estrapolare una traccia di DNA anche microscopica, piccolissima, e con un processo ovviamente, il resto la faccio facile, però molto lungo, molto complesso, ricostruire un DNA per avere una traccia il più completa possibile da poter comparare a qualcuno. E per questo motivo, con l'arrivo di questa tecnologia, nel 2019 decidono di testare tutti quei vestiti, le scarpe, la biancheria intima, l'anello, insomma tutto quello che aveva addosso l'Orel per cercare di vedere se a quel punto, dopo così tanti anni, questa nuova tecnologia fosse in grado di estrapolare un DNA. E dal 2019 dovrà passare quasi un anno, nel febbraio del 2020, quando finalmente dopo mesi e mesi di lavoro su quegli indumenti di Laurel riuscirono a tirar fuori un DNA quasi completo. Quindi finalmente dopo così tanti anni hanno un campione da poter comparare a qualcuno. E infatti la prima persona che chiamano a questo punto fu proprio Fred Bundy. Fred inizialmente non vuole dare un campione di saliva, e come immagino già sapete non è obbligatorio dare campioni in un'indagine, a meno che non ci siano abbastanza prove per cui la polizia riesce a procurarsi un mandato, un ordine per prelevarti anche a forza un campione di DNA. Quindi di fatto dovranno tirare su un caso, un vero e proprio caso, con tutto quello che sapevano fino a quel punto, tutte le possibili prove, testimonianze, eccetera, che portassero nella sua direzione. Il mandato riescono a ottenerlo finalmente nel 2022. Le analisi richiederanno in realtà un macello di tempo per comparare il campione di saliva prelevato da Fred a quello trovato e diciamo estrapolato da quelle analisi, semplicemente perché come vi dicevo questo campione era tipo all'80%, non era proprio al 100%, dovettero lavorarlo ulteriormente per poterlo comparare a quello di Fred. Ma finalmente nel 2023 arriveranno i risultati di queste analisi ed era un match completo. E così Fred viene arrestato e viene fuori che questo Fred non era proprio una meraviglia di persona perché negli anni in passato era stato arrestato ben tre volte e tutte e tre le volte per molestie nei confronti di alcuni bambini. La condanna più grave che si era presa da una di queste tre molestie erano stati sei anni che aveva scontato, poi era uscito tranquillamente. A questo punto si concentrano chiaramente anche su John. Su John il problema è che non c'è, mentre la traccia di DNA di Fred c'è, quindi voglio dire una prova abbastanza schiacciante, di John non hanno trovato niente su questi vestiti, su questi indumenti, però Fred non si fece problemi a coinvolgere subito il suo ex amico John. In più proprio John nell'agosto del 1975 guidava una macchina decappottabile rossa come quella che aveva visto uno dei testimoni. Quindi vengono arrestati entrambi a 48, quasi 48 anni dall'omicidio di Laurel che è una cosa assurda ed è bellissimo tra virgolette da un lato con il passare degli anni vedere sempre più casi che sono rimasti aperti per tantissimi anni finalmente venire risolti grazie al progresso, chiaramente le nuove tecnologie che nascono praticamente ogni anno. La data del processo deve ancora essere fissata, vedremo cosa uscirà fuori da questo processo. Per Fred chiaramente non è che ci sono chance, cioè voglio dire potrebbe si firmare un patteggiamento, ma a questo punto hanno entrambi 67 anni, quindi anche un patteggiamento con tutta la buona volontà del mondo e scontando un bel po' di anni da una condanna a 67 anni, anche se ti fanno uno sconto e devi passare solo 25 anni in prigione, equivale praticamente a un ergastolo. Per John probabilmente un po' di spazio di manovra ce l'ha, io personalmente prevedo un puntare il dito su Fred, giustamente John e i legali che lo consiglieranno, cercheranno di addossare tutta la colpa su Fred, col fatto che non c'è di fatto traccia di DNA di John, quindi magari qualcosa lui riuscirà a scamparla. Per quanto riguarda, come vi dicevo prima, la chiamata anonima. Io ho il mezzo presentimento che questi due geni del male, del crimine, John e Fred, col fatto che entrambi l'hanno raccontato da altre persone, magari l'hanno raccontato a una ragazza all'epoca, una loro amica, una persona che li conosceva, e quella ragazza, esattamente come era successo con René, magari aveva voluto chiamare la polizia, magari era una ragazza che aveva subito qualcosa da queste due persone e voleva denunciare, poi magari si era impaurita. Non so se lo scopriremo mai, però ho il presentimento, ed è solo un presentimento, quindi stiamo parlando assolutamente di niente, che quella chiamata anonima non sia stata uno scherzo, sapete che ogni tanto capita che le persone si divertono in questi modi, facendo finta di fare delle segnalazioni o di sapere qualcosa in indagini. Io invece in questo caso ho proprio il presentimento che qualcosa c'entrasse. In ogni caso, questo è tutto quello che ho trovato sul caso di oggi, come al solito fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questo caso. Vi ringrazio di essere arrivati fino a questo punto del video, vi ricordo di iscrivervi al canale se volete sostenermi, potete anche seguirmi sulle altre varie piattaforme. Per il caso di oggi era tutto, noi ci rivediamo con un prossimo video.